Dove sei? Sono da Decathlon o sono alla Decathlon, dipende un po' dai regionalismi. Come dici comunque in tedesco quel da Decathlon? Ich bin bei Decathlon. Con i nomi propri di aziende si utilizza infatti la preposizione bei senza articolo. E quindi ich bin bei Esselunga, ich bin bei Komet e così via.